Non riesco a ridere, mi fa male la gola! Bene ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video dei Troll. L'avete sentito altissimo perché è andato vicino al microfono. Ragazzi, vi devo chiedere prima di tutto una cosa. Supportate la serie condividendola e lasciando un mi piace. Perché ragazzi, questa serie è una serie importante nel canale e sono contento che arrivi sempre almeno a 1500 mi piace, quindi lasciate un mi piace. Questa volta ho provato a cambiare modalità. Mi sono sposato sul vanilla, non so quanto possa essere divertente l'episodio, quanto è divertente sugli Skywars. Quindi, questo è un episodio prova, ok? Io mi sono divertito tantissimo a registrarlo, però è un pochino confusionale. Ragazzi, dovete dimmi sotto nei commenti se volete continuare dei Troll del genere, oppure che continuiamo a fare degli Skywars con le stesse cose che magari fa un pochino più. Nel caso, ragazzi, ho in mente altre cose che vi dirò in seguito. Comunque, continuate a supportare la serie con un like e scrivete hashtag MarciTroll per dei Troll che volete vedere su, magari, il vanilla, sulla modalità che appunto ho fatto oggi. Non mi dilungherei troppo e vi lascerei all'intro. Bella! Hihihi, Marci burlone! Bello, ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video dei Troll dopo tantissimo tempo che non ne registravo uno. A parte, ragazzi, che sono malato e quindi non so quanto possa durare questo video perché quando faccio i Troll di sotto sudo come un malato perché non... Cioè, ragazzi, ragazzi, veramente registro tantissimo nei Troll, tipo un'oretta e poi lo taglio. Quindi, oggi, se notate, siamo su una modalità diversa dal solito perché siamo sul vanilla di Leilcraft. Se volete vi dite da provare, mc.leilcraft.com. Me lo avete chiesto in una marea. Quindi, ragazzi, cerchiamo di arrivare a 1500 mi piace anche in questo video perché nello scorso episodio avevo detto, eh, facciamo modalità diverse ed è riuscito di fare il vanilla. Quindi, sotto nei commenti, provate a scrivermi delle cose da fare nel vanilla. Ovviamente non potrò usare esplosioni, ammazzare player perché sennò poi è una cosa che non deve succedere, ovviamente, perché comunque questi qui ci hanno passato ore a giocare e non voglio che siano... Che perdano tutta la loro roba. Fede 10, eccolo qua, ragazzi. Ragazzi, guardate un po', guardate un po'. Adesso, siamo qua da lui. Aspettate, eh. Facciamo. Hsfere. 166.2. Tanto vuoi provare se funziona. Ok, funziona. Ok, 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 ok. Questo si è spaventato, raga. Si è spaventato. Si è spaventato. Devi stare fermo un attimino. Brava, perfetto, perfetto, perfetto. Non puoi più uscire. Non puoi più uscire. Raga, non può più uscire. Non può più uscire lui. Vediamo se scriveva cosa in chat. Sto fede 10. No, raga. Si sente che sono raffreddato, però, eh. Raga, lui è completamente bloccato. È bloccato, lui. Lui è bloccato, non può più fare niente. Non può più fare niente. Fede 10 sta tentando in ogni modo di cercare di uscire, ma non ce la fa. Ora, spero che scriva. Sono bloccato. Raga, io sono qui da tipo due minuti. Sono riusciti ad andare, ci sei minuti adesso. È bloccato e c'è Alex Macella. Non sa cosa fare, raga. Questo beve. Questo non sa cosa fare. Questo beve. Questo non sa cosa fare. Questo beve. Questo non sa cosa fare. E questo beve. Ragazzi, abbiamo capito di questo che dobbiamo farlo uscire. Boom! Può uscire, attenzione. Può uscire. Vediamo cosa fa. Tanto, ragazzi, non ci fa tanto. Non gli facciamo tanto donndogli dei colpi così. Ragazzi, ve lo giuro che non volevo ammazzarlo. Ragazzi, sembra questa Matilde. Attenzione, questa qui non sa, ma io le piazzo il blocco ogni volta. No, mi ha scoperto. Che palle, che palle. Giovanni ci dice, ti fate vici una casa piena di prot4. Benissimo. Benissimo, Giovanni. Hai detto una cazzata e ora ti chiuderemo dentro. No, ragazzi, film, 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 film. Allora? Tu non lo sai, vero? Che ora non puoi più fare niente, vero? Dai, è bomber. E allora? Oddio! Oddio, sto volando! Ragazzi, per esempio, cosa? Il nostro giù è grandissimo. Vediamo cosa ci dice. Vediamo cosa ci dice. Vediamo cosa ci dice. Sta scrivendo. No, ha smesso di scriverlo. Giovanni, sì, quello di prima. Ragazzi, tippiamo. T.P. Alex. Giovanni. Che succede, scrive, raga? Che succede? Oddio. Ragazzi, diamogli qualche colperto ogni tanto, noi. Cosa c'è scritto Alex Zanna? Ho bisogno di cibo, sì. Come sì? Che succede? Aiuto un hacker. No, raga, sul vanile è troppo bello trovare. Perché effettivamente non è che si fa stitolo, però. Marci c'è un hacker. Marci c'è un hacker. Che succede? Raga, ma che succede? Cos'è sta cosa? Come avete fatto? Non lo so, sono stato teletra spostato. Alex Zanna ci dice così. Attenzione, adesso, ragazzi. Facciamo così. È un bel casino. Ragazzi, è un bel casino. Ragazzi, è un casino. Cioè, non possono stare lì. Ragazzi, è un bel casino. Ragazzi, è un bel casino. Ci vogliono delle tor. No, non ci interessa, X-Migno. Voglio sapere dagli altri. Ragazzi, fa pranzo. Ragazzi, ragazzi, questi qui vi giuro, non credono che sia io. È bruttissimo come cosa. Però a voi ci sta, bordelli. Ho visto un video a uno che è successo. Cosa, Alex? Cosa, Alex? Oddio. Oddio, rega, oddio. Oddio, voglio sapere cosa dice. Raga. Raga, che cosa? Che cosa è successo? Sta scrivendo. Ho visto un video dove a uno gli è successo la stessa cosa e gli si è rotto il PC. Quindi, quindi vi si rompe il PC adesso. Aiuto, dopo il mio... Fammi via! Non riesco a ritirare, mi fa mal la gola. Scusate, mi fa mal la gola. Credo di sì. Aiuto. In bocca al lupo, allora. In bocca al lupo, allora. Comunque, ragazzi, credo che per questo episodio sia tutto. Ragazzi, questo è un assaggio di quello che potrà succedere sul Vanilla. Non posso registrare di più perché se no mi viene da spararmi. Però, sotto nei commenti con hashtag MarciTroll, scrivete degli altri troll da fare sul Vanilla questa volta. Non più sugli Skywars. E se vi va, magari anche qualcosina da fare sugli SG. Perché è una cosa abbastanza figa. Non capisco perché siamo qui dentro. Ragazzi, settimana prossima. Mercoledì barra giovedì. Quindi, se riesco, per farmi perdonare che non sei riuscito a farvi un troll di 12-13 minuti, cercherò di portarvi un altro troll se tutto va bene. Non vi assicuro niente perché ultimamente via dell'università sto comunque perdendo tantissimo tempo. Non sto perdendo, sto utilizzando del tempo per l'università. Quindi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Da Marci è tutto. Bella.